Il veicolo smantellato Sto occupando il settore di ferro 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 E' un'altra cosa. Gli alleati stanno cacciando l'obiettivo, bravo, un po' Mudo, abbattuto! Ho abbattuto un nemico! Minanza neutralizzata! Uno e meno! Nemico eliminato! Dobbiamo ripetere il posto! Terra! Terra! Un scissione conferma! Un scissione conferma! Unimi! Un scissione conferma! Non ho! Un continui! Un saz me... Sì! ora il nemico controlla il settore il nemico è abbattuto mi hanno fatto tutto mi hanno fatto tutto il nemico è abbattuto si, hanno il settore del Rupe alleati e attacano Bravo 1 Un belico a terra 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 Sì, c'è una palla! Abbiamo un po' altro! Grazie per la visione!